Con lo strumento delle primarie potevamo far partecipare a questa scelta tantissime persone che chiedevano di essere parte di un nuovo progetto del campo del centro-sinistra. Il Partito Democratico ha deciso, ha scelto di non affrontare il percorso delle primarie e a questo punto abbiamo fatto vincere la responsabilità e la volontà di essere uniti come partito. Due passi avanti, ha detto Jamil, perché in queste settimane abbiamo lavorato seriamente, io e lui, nella costruzione di un documento politico e programmatico che parla la città, parla tutti. Punti chiari, punti legati al governo dei prossimi anni e la volontà anche di allargare il nostro campo politico a nuovo civismo, al dialogo con i Cinque Stelle, ad una sinistra strutturata. In questo vogliamo essere molto forti e molto radicali e poi raccogliendo anche quell'istanza che è arrivata dal basso di partecipazione. Su questo noi dobbiamo essere estremamente chiari e determinati. Credo che anche la scelta di presentare alle elezioni per la prima volta un tandem, un ticket che abbiamo costruito assieme, perché la candidata vice sindaco Chiara Bellini è anche parte di quel progetto che mi ha visto protagonista in questi mesi, con le stanze delle donne, con le stanze culturali. Credo che sia anche il segno tangibile, visibile alla città dell'unità con cui ci proponiamo per amministrare e quindi affrontare questa campagna elettorale da qui ad ottobre. Quindi sono contenta di questo risultato, ma dobbiamo comunque riconoscere che c'è un limite politico che purtroppo non abbiamo affrontato. Avere più coraggio, non avere paura di affrontare i dibattiti aperti anche con le primarie, come hanno fatto ad esempio a Bologna, ci avrebbe rafforzato. Ma oggi siamo qui e guardiamo avanti con grande umiltà, con grande determinazione, senza fraintendimenti e ipocrisie, ma con la volontà di essere uniti nella sfida di ottobre.